Truffa sui finanziamenti e contributi pubblici per il Covid, una maxi operazione della Guardia di Finanza che vede coinvolta anche l'Abruzzo. Per i particolari in diretta il collega Luca Pompei. Buon pomeriggio Luca, un argomento che sta suscitando reazioni e commenti sulle pagine sociali, in particolare su Facebook, le pagine di Rete8 ovviamente. Un saluto anche a tutti gli amici e telespettatori. Una vicenda che però va ancora chiarita in profondità perché è un'operazione abbastanza complessa coordinata dalla Procura di Monza e che riguarda ben 6 regioni italiane tra cui anche l'Abruzzo, 21 le persone arrestate di cui 6 in carcere e 15 ai domiciliari. Le ipotesi di reato vanno dall'Associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale, truffa i danni degli istituti di credito e su finanziamenti e contributi pubblici per il Covid. Gli indagati sono addirittura 58 e sono stati sequestrati beni per 40 milioni di euro. Tra le figure principali Gigliola, un commercialista milanese, un consulente fiscale di Cologno-Monzese e un imprenditore calabrese residente a Bergamo, tra l'altro con numerosi precedenti anche legati alla dranga età. Tre filoni societari attraverso i quali praticamente si accedeva al Fondo di Garanzia dello Stato per le piccole e medie imprese, fondi dedicati al ristoro per il Covid, riuscendo così ad acquisire risorsi pari a 4 milioni di euro. Tutto questo attraverso delle società fittizie, le cosiddette scatole vuote, termine gergale ben noto a chi si occupa di questo tipo di attività. Insomma, un'attività abbastanza complessa che si è ramificata un po' su tutto il territorio nazionale. In Abruzzo stiamo cercando di acquisire ancora informazioni, ma pare che le attività investigative siano concentrate tra le province di Teramo e l'Aquila. Maggiori dettagli li forniremo più tardi. Ovviamente tanti commenti sulle pagine social, soprattutto di rammarico rispetto a un momento difficile di crisi per tutti dove i piccoli imprenditori, ad esempio pensiamo ai ristoratori, fanno fatica ad accedere ai finanziamenti per il ristoro mentre poi arrivano queste persone senza scrupoli e che fanno il pieno. E questa è una cosa che al mondo social dà davvero fastidio e non solo al mondo social, evidentemente Gigliola. Questo è quanto, ovviamente maggiori dettagli nel corso delle prossime ore. Vi ricordo anche l'appuntamento con il bollettino Covid nel pomeriggio, sempre dalle nostre pagine social di Facebook e di Instagram. A te Gigliola.